Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... Cinque insegnanti da cui... Mmm, è meglio non andare. Oggi voglio parlare non dei cinque nomi, cioè non vi dico cinque nomi di batteristi da cui non andare a lezione, anche perché non li saprei neanche. Ma io voglio dire quelle cinque cose che su un insegnante fa o non fa, mmm, secondo me non è il massimo. Poi, questo è il mio parere, qui sotto nei commenti scrivetemene altre. Voi mi dite, secondo me non bisogna andare da un maestro che fa questa cosa qua, perché... E mi spiegate. Quindi per me al numero uno... Ah, non è una classifica, cioè vi dico cinque cose così a caso, non è che sono in ordine di importanza. Comunque, torniamo indietro. Al numero uno il maestro che dice, ma sì, ma va bene, non ti preoccupare, anche se non studi, vieni io stai a lezione, non c'è problema. Col cavolo. Primo, perché secondo me è sbagliato come insegnamento. Ovviamente dipende che allievo abbiamo davanti. Se abbiamo un bambino di 6-7 anni, ok, questa cosa ci può stare. Ma, secondo me, dagli 8-9 anni in su e più che altro poi da 14-15 in su, secondo me un bambino deve imparare a suonare la batteria. Quindi non va bene che non gli diciamo, ma sì, se non studi, vieni lo stesso. Secondo me un maestro deve un po' pretendere dall'allievo se non fa abbastanza. Ma sì, che cavolo me ne frega se fa o non fa tanto, io i soldi li prendo lo stesso. Questo secondo me è una cosa sbagliata. Numero 2. L'insegnante che non insegna mai la tecnica, non fa mai fare esercizi di tecnica. Questo perché è sbagliato, secondo me? Non tanto perché bisogna fare gli esercizi di tecnica perché dobbiamo diventare tutti come Billy Coburn. No, ma anche se a una persona non interessa sapere le tecniche e andare veloce, ma gli frega solo di poter tenere un 4-4 e suonare con gli amici. E ci sta la cosa, è giustissimo. Però anche questa persona qua è giusto che sappia un po' di tecnica. Perché la tecnica è importante, come vi dico sempre, per non farvi del male. Se voi sapete la tecnica giusta, sapete come suonare nel modo giusto, se tenete le bacchette così e suonate così, ci facciamo del male. Anche se suoniamo non troppo forte, ma tiriamo i tennis, tiriamo i muscoli, ci facciamo male. Quindi è importante che il nostro maestro ci insegni comunque una parte di tecnica. Almeno farci capire come dobbiamo usare il polso, qual è l'impostazione giusta. La tipologia numero 3. 3. 3. E' quel batterista che non ci fa mai suonare sulle canzoni. Esistono solo gli esercizi. E' giusto fare esercizi. E' giustissimo, io sono di quell'idea lì. Soprattutto all'inizio bisogna fare esercizi. Però, se facciamo esercizi e basta, soprattutto se siamo all'inizio, qualsiasi sia la nostra età, noi le canzoni vogliamo farle. Perché suonare la batteria? Perché abbiamo sentito quell'album? Perché abbiamo sentito quella canzone? Perché abbiamo visto quel batterista che suonava con qualcuno? Quindi noi vogliamo suonare sulle canzoni. E se la nostra tecnica ancora non ci permette di suonare la Black Page, chi se ne frega? Suoneremo Smoke on the Water, facilitata magari, però quella cosa lì ci darà l'input per continuare a studiare e dire io Smoke on the Water la voglio fare con i sedicesimi. Voglio fare gli stessi feel che fa Ian Pace. Ho preso una canzone a caso, la prima che mi è venuta in mente. Invece, se la batteria diventa solamente un esercizio meccanico e un obbligo a dire ok, devo fare così e poi chissà perché sto facendo un Paradidol, chissà perché sto studiando i doppi colpi velocissimi se poi tanto il massimo che faccio è studiarli sul pad e non li ho mai applicati su una canzone. Diventa tutto un po' più difficile e diventa anche un problema avere il piacere di suonare la batteria. Io adesso vi ho detto per i principianti, però in realtà per tutti. perché chi è già bravo a suonare, andando a dei maestri che ti dicono suona questa canzone in un modo piuttosto che in un altro, in questa canzone senti che cosa fa il basso, suona il Charleston così anziché suonarlo tutto dritto, accenta quelle parti, cioè ci sono infiniti spunti che la musica ci può dare, l'esercizio è importantissimo, ma suonare sulla musica è indispensabile. Numero 4 è l'insegnante che suona sempre lui. Ti faccio vedere questo esercizio e poi suona mezz'ora quell'esercizio e te lo fa piano, te lo fa veloce e tu capisci niente. Boh, cosa avrà fatto? Però intanto è passata mezz'ora e io non ho imparato niente. Sì, ho visto lui che faceva una figata pazzesca perché era bellissimo quello che faceva, perché non me lo insegna anziché suonare tutto il tempo lui. È giusto che l'insegnante suoni e vi faccia vedere gli esercizi. Quando l'insegnante ti fa vedere l'esercizio e ti dice guarda che l'esercizio è così, poi si può fare in questo modo, si può fare in questo modo, si può fare in questo modo e il nostro obiettivo diventa cacchio io lo devo fare come lui. Però il mio insegnante mi deve dire come fare ad arrivare a fare quello in un certo modo. Se invece l'insegnante suona per mezz'ora un esercizio e mi dice guarda è così e poi veloce è così, a me serve niente. Io vado a lezione perché devo imparare quello che l'insegnante mi dice. Ma l'insegnante ve lo deve spiegare. Poi il quinto invece è un po' strano. Nel senso, io penso un insegnante non deve avere un proprio metodo che deve essere quello. O è quello o io non ti insegno. È giusto che il proprio insegnante abbia un programma di insegnamento abbia dei libri che usa. Però secondo me non devono essere l'unico modo possibile. A me è successo ogni tanto di avere degli allievi che arrivavano magari da altri insegnanti o che avevano studiato certi libri. È sbagliato che un insegnante mi dica no, quegli libri lì sono da buttare via. Dagli fuoco. Adesso ti faccio vedere le cose che servono veramente. È giusto che gli insegnanti si confronti con l'allievo. Perché hai studiato quel tipo di metodo? Cosa volevi andare a studiare con quel metodo? Io volevo studiare il fraseggio e quindi ho studiato quel tipo di metodo lì. Ok, quindi l'insegnante dirà se vuoi possiamo continuare lì e io ti do un po' di miei spunti in più. Oppure ti faccio vedere anche questo libro che secondo me è più funzionale per quello che vuoi fare. Chi impone per forza un certo tipo di studio non va bene anche perché lo studio comunque cambia da allievo allievo. Il maestro deve un attimino capire chi ha da avanti. Quindi con questo video spero di non aver messo il terrore negli occhi di tutti ma spero di avervi fatto capire il mio punto di vista e se stavate cercando un maestro almeno avete una lista di cose da dire. Ok, se quel maestro lì fa queste cose non ci vado. Quindi queste erano solo 5 tipologie di maestro da cui non bisogna mai andare ma ce ne saranno migliaia di tipologie. Quindi se viene in mente quindi se viene in mente quindi se viene in mente qualcuna servetemelo qui sotto nei commenti. E l'ultimo consiglio che vi do ragazzi è cercatevi un maestro bravo. Ma cosa vuol dire bravo? Vuol dire cercatevi un maestro che voglia insegnarvi veramente. Se avete un maestro che vi cazzia magari ha ragione perché se lo studiate è giusto che vi cazzi. Quindi ho detto cazzi. Quindi cercatevi veramente un maestro che a qualsiasi costo cerchi al meglio di insegnarvi a suonare questo strumento. Io la smetto qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like qui sotto commentate mi raccomando andate sui miei social Instagram e Facebook noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!